Non vi sedio ulteriormente, è una cosa che devi fare, ti racconto questa storia, spesso mi capita, ma forse perché sono di Catania, a Catania noi ci prendiamo il nostro tempo, ma questa cosa non è vista molto bene perché non crea profitto, perché il tempo è vicario del dio denaro e quindi il tempo è denaro, io prendo il mio tempo per ragionare, per elaborare una felicità, un rischiacere, per sognare, ecco il sogno è un'altra parola proibita, allora a volte quando mi affaccio alla modernità, che chiamano modernità appunto, contemporaneità tecnologica, mi accorgo che non sempre, forse, ma dal mio punto di vista, a me sono sempre Carmen Consoli di San Giovanni della Punta in provincia di Catania, forse mi chiedo se questo sviluppo tecnologico possa corrispondere a un'evoluzione umana e mi dico, ma alla fine per fare un bambino nove mesi ci vogliono, non è che ce ne vogliono tre, e non mi convinceranno mai per contrario. Allora mi chiedo dove arriveremo, visto che in nome di questo progresso stiamo distruggendo il nostro pianeta e le previsioni anche di pensatori, fisici e grandi geni come Stephen Hawking, sono uno che ridurremmo questo pianeta proprio al buio, e perché io ho fatto che il buio si spaventa, il buio si spaventa molto, non ci sono le luci, i scandati, vero? Però che cosa succede? C'è un piccolo paradosso che volevo, così, come ci ho pensato, ve lo dico, ma se noi così in nome del progresso, in nome del profitio e del denaro dobbiamo produrre, quindi dobbiamo inquinare, quindi dobbiamo ridurre il nostro pianeta a un insieme di valenti del quale il cibo è il collettore, no? E quindi mangiamo quello che produciamo in tutti i sensi, qual è la strada? Mentre di fare quello che stiamo facendo è guardare un'evoluzione umana? Oppure siccome il mio denaro non si deve toccare, ci mutiamo noi stessi per poter sopravvivere un giorno a una terra che sarà in ospitale all'uomo uomo in quanto geneticamente strutturato in una certa maniera, con dei desideri, con dei pensieri, tutti anche i conosci, che non ci sono desideri, non c'è pensiero, tutta perdita di tempo. Allora ho pensato a una società in cui l'uomo è stato combinato con il fatto. Una cosa molto radioconica, ho pensato, ho avuto un'attivizzata di successo totale, no? E inizia così, io dovrei dire una sorta di telegiornale con l'importazione precisa. Sentite come mi chiudo le vocali tutto all'improvviso. I nostri scienziati sono riusciti a combinare il DNA del ratto con quello dell'uomo, di modo che quest'ultimo possa avversi di una capacità di adattamento di gran lunga superiore alla portata umana. Una rivoluzione, insomma, una nuova frontiera genetica. Una domanda sorge spontanea, però, e il top sapiens cosa ne sarà di lui? L'idea che gli altri hanno di noi, non è un dettaglio, trascurati nella scelta d'opinione, una citosi indenica, signora e il suo preciato coche, sta pisciando sui sacchi della spesa i miei. Per precisione mi scuso se in qualche modo ho intracciato l'operazione. Quelli che si passano a destra, non sono rispiettati, lanciati con solistazione in fondo. Chi non ha peccato, chi fa, chi non ha peccato, chi non ha peccato, per favore. Per precisione di educazione, torna a casa e scirone, troppo in questa città ci dovevi portare il terore. A mio pelle sono un dottore, si tocca a curare, preso il tempo e il frattivo non è portale. L'idea che gli altri hanno di noi, non cade più o meno al quadrato nella distanza. Da uomini dopo una nuova prontiera genetica. Quelli che sul treno discutono al cellulare, costringono ad ascoltare. Mamma, può avere una ragione, non mangio la carne, per favore. La ragione di educazione, apertura mentale, e dai suoi pregiudizi, da un'altra parte morale. Questa ondata omosessuale, ma un vaccino speciale, toglierà i nostri tipi, il peccato originale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.